Il liceo modicano Galilei Campailla ha aperto oggi le porte per tutta la giornata ad un'iniziativa dal titolo Orienta Mainz 2018, dedicato all'orientamento post-diploma, invitando molte università italiane non solo e le forze armate per approfondire le possibili scelte per un futuro per loro ormai incombente, dove la scelta giusta diventa fondamentale. Sì, un altro momento molto importante di apertura al territorio, non soltanto per i nostri ragazzi ma anche per tutti i giovani che si trovano in uscita e quindi a dover scegliere il loro futuro. Oggi hanno manifestato il loro interesse parecchie università che sono qui presenti e voglio particolarmente ringraziare i miei docenti, la professoressa Floridi, la professoressa Calvaruso e la professoressa Fisciti che hanno organizzato questa giornata invitando le forze armate e tutti coloro che possono dare un futuro ai nostri giovani. L'Istituto di Piazzale Baden-Powell già negli anni passati aveva organizzato eventi di orientamento quest'anno ha voluto riprendere l'importante appuntamento e ampliarlo con più inviti a prestigiose università italiane e straniere che propongono un'offerta formativa ampia e variegata. Presente è anche il professore Sergio Bettini, psicologo dell'orientamento che ha focalizzato l'attenzione sugli studenti e sulle loro famiglie per un percorso di scelta condiviso ma responsabile. La giornata è stata coordinata dalle professoresse Eugenia Calvaruso, Elisabetta Ficili e Teresa Floridia. Orientare significa far conoscere e la conoscenza e il confronto, la possibilità di confrontarsi con le diverse proposte formative ma soprattutto anche l'idea delle città in cui andare a vivere perché molte volte si sceglie più per amicizia, si sceglie perché così stiamo insieme tra di noi oppure perché c'è Milano, Roma ma non si capisce poi l'importanza di una scelta di questo genere vivere all'interno di una città. In questo modo invece abbiamo una varietà di università, di proposte formative e quindi i ragazzi soltanto attraverso la conoscenza, una conoscenza accurata possono effettivamente decidere sul loro futuro. Grazie a tutti.